la fiamma al giorno energia del 7 di giugno scegliete la vostra variante ametista onice nero cristallo di rocca chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 7 di giugno per tutte le tre varianti però attenzione sono solo consigli quindi se prendete se vi risuona prendete se no lasciate andare qua c'è qualcosa che desiderate fare ma prima è necessario andare a comprendere come agire per poter realizzare questa è una situazione d'amore o di armonia familiare ecco tutto quello che riguarda un po gli affetti desiderate veramente dei cambiamenti ma prima va va ancora consapevolizzato come muovervi cosa volete veramente che cosa desiderate andare a manifestare quindi c'è ancora un pochino di chiarezza da fare allora sì sì è un po come se doveste scegliere ancora la via da seguire e chiaramente avere il aver lavorato sull'energia del ricevere del poter manifestare essere degni di manifestazione e infatti qua comincia qualcosa di assolutamente nuovo la magia a inizio ma ecco non siate precipitosi per capire che cosa dovete andare a fare veramente per realizzare i vostri sogni e qua onice nero qua c'è un maschile che si muove si muove nella sua relazione d'amore ci sono delle prese di direzione delle decisioni un nuovo portale si apre e verrà manifestato perché è stato imparato diciamo ha imparata la lezione su quello che era appunto gli errori del passato e infatti come sta dicendo lo spirito crea la materia la pulizia è stata fatta e ora il maschile si muove cristallo di rocca qua c'è una dichiarazione d'amore che però ecco deve aspettare ancora un pochino c'è un uomo innamorato c'è una persona innamorata che o comunque un maschile innamorato che si vuole muovere ma ancora deve lasciarsi le spalle le paure e le condizionamenti del passato sta completando un cerchio e quindi ovviamente si muoverà dopo aver appunto lasciato definitivamente le spalle le sue paure e i blocchi del passato deve ancora veramente un po imporre diventare protagonista diciamo della sua vita quindi ancora un po legato a situazioni del passato delle cariche però ecco si sta rendendo all'universo e sta facendo crollare quelle che le cose le ultime cose che deve lasciare andare quindi ci saranno cambiamenti importanti